Signore e signori, buonasera. Questa è Minecraftita, sono qui con la mia camicetta, con la mia giacchettina, il mio buonissimo caffè, perché sto registrando questo contenuto di mattina. Dopo aver finito il tutorial del Gym Bro, non è il Gym Bro, è il Bro del tutorial, però ormai è un po' e un po', è un po' e un po', ok? Perché comunque ti insegna la disciplina di seguire il tutorial, di stare lì, è come seguire la schiena in palestra, no? Bene o male? Ok, no, sto andando un po' fuori il percorso. Comunque, ho il mio caffettino, quanto è buono il caffè, lo sappiamo tutti, anche se questo video esce la sera, vabbè, per gli abbonati al canale in realtà esce quando lo pubblico, quindi probabilmente questa mattina. Allora, siamo molto contenti del Tempio Rosa? Sì, signori, siamo molto contenti del Tempio Rosa. C'è solo un elemento che, diciamocelo, forse possiamo aggiungere e lo aggiungeremo. E si tratta del tetto a forma di hopper. Tutti questi cose poi li andiamo a recuperare. Ora, posiamo qui tipo tutto il legno rosa, che non ci serve. Tutto ciò che è rosa lo mettiamo lì. Qui mettiamo tutto ciò che è marroncino. E di qua tutto ciò che è marrone scuro. Perfetto, perfetto, perfettissimo. Siamo contenti? Ma siamo contentissimi, ma siamo contentissimi. Siamo delle Pasque, guarda. Raccogliamo i nostri bellissimi cosettini. Allora, abbiamo sicuramente... Facciamo così, per favore. Grazie, così poi li svuotiamo, li andiamo un po' meglio, però... Allora, abbiamo otto hopper, ma non bastano. Dobbiamo replicare questa parte del tetto. Sì, sono abbastanza convinto che possa dare un bel incipit. Non è un incipit, è un bel mood. Quindi sicuramente abbiamo bisogno di un wall di questo tipo qui. Non so che blocco è, ma è uno delle prime ceste. E anche un pezzettino di Iron Fence, di Iron Bars. Uno di quei cosi lì. Quindi andiamo a recuperarli. Tra l'altro, questo video, signori, esce... Se tutto è andato bene, se non è cascato l'aereo, ma incrocio le dita. Con tutti i walli che prendo, prima o poi dovrà succedere qualcosa. Ma spero che non sia questo il caso. E dovrei essere a Miami. Ora, si spera, eh. Poi non si sa mai. Mettiamo tutto... Eccolo qua, il Deep Slate. Ed è anche il motivo per cui mi sto anticipando. No, aspetta, aspetta, aspetta. Mi sono indicato una cosa importantissima. Mi sto anticipando i contenuti. E' il motivo per cui, come vi dicevo, chi è iscritto con l'abbonamento al canale può vedere tutti i video in anteprima. Io ho un po' di ferro. Guarda, ci facciamo un calderone. Ce lo facciamo. Sono sei blocchi? No, erano sette. Ne servono sette. Perfetto, ho sbagliato. Dammi un blocchettino in più. Allora, importantissimo anche il calderone perché ti dà la base da cui partire. Ok, allora abbiamo un calderone. Abbiamo gli hopper. Ora, quanti hopper usiamo? Se qui abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque hopper io forse qui ne metterei quattro ma solo perché non vorrei mettere, per un costo di proporzioni, non vorrei mettere la stessa quantità di hopper sia a destra che a sinistra. Comunque, siamo contenti di come è venuto fuori il Tempio Rosa. Sì, non ha la stessa, diciamo, peculiarità di dettaglio che ci offre la pagoda ma ci mancherebbe. Ci avevamo messo meno della metà del tempo per fare questa roba qua. Allora, mettiamo un calderone e mettiamo uno, due, tre, quattro hopper. In cima all'hopper ci mettiamo questo e in cima a questo l'iron bar. Diamo una volatina e vediamo se ci piace o non ci piace. Giriamoci di botto. Pam. Sì, dai. Sì, 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 sì. Ci sta. Allora, lì ci sta un po' meglio perché va verso l'alto. Quindi possiamo studiarci un modo per far sì che questa cosa vada un po' verso l'alto? Tipo... Allora, non lo so. Potrebbe sembrare un po' una cavolata. Aspetta, perché sto andando via che ho tutti i blocchi? Ho tutti qua i blocchi. Allora, terriamo... Ahia. Ok. Allora, dov'è Dark Oak? Esatto. Allora, io dovrei prendere tipo delle cose così. Mettiamo caso che io qui voglia mettere dei blocchi interi e che qui voglia mettere degli slab. Non solamente due, come non detto. Non ci piace l'idea di uno slab? No. Forse delle trapdoor? Forse delle trapdoor. Delle trapdoor attorno al calderone? Ma poi non si vede che è un calderone. Eh, perde un po' di senso. Il bro. Che tu dici? Io dico che potrebbe perdere un po' di senso mettere il bro così. Non lo so, perché da un certo punto di vista mi piace. Dall'altro devo vederlo da lontano. Quindi craftiamolo comunque. Ne mettiamo... Aia. Cioè, non so perché ho detto aia e non mi sono fatto male, però... Allora, mettiamo una... Nooo. Mettiamo una cosa così e una cosa così. Recuperiamo lo shulker box e vediamo com'è. Potrei mettere anche delle scalette al contrario, onestamente. Però, insomma, non è il massimo. Non è il massimo. dobbiamo tenere la struttura... Eh, eh, eh... Un po' meglio. Un po' meglio. Potrebbe addirittura essere, perché non mi piace il fatto che l'ho per parta così, che queste semplicemente le teniamo aperte. In questo modo. Vediamo se ci piace un po' di più. Poi è chiaro che se ci fissiamo sul dettaglio ovvio che stona un po'. Però... Ma vedi, lì mi piace il fatto che vada verso l'alto. Qui invece non abbiamo questa cosa di andare verso l'alto. E un po' mi urta. Un po' mi urta. Devo essere molto onesto. Come possiamo integrarla a questa cosa senza che sembri completamente arbitraria e non dettata dal Brue del Tutorial? Se non con le trapdoor, le scalette, abbiamo detto non voglio metterle, o metto tipo qui il blocco, mettiamo il blocco tipo un po' prima. Tipo qua. Possiamo provarci, signori. Non ho soluzioni. Ho solo voglia di provarci. Mettiamo di qua, mettiamo di qua, mettiamo di là. Così sembra sicuramente un po' più alto. Non sembrerà slanciato. Questo è poco ma sicuro. Dovrei mettere degli slab. Mettiamo degli slab. Per dare più il senso di slancio. Abbandoniamo la nostra idea. Aia. Non so perché dico aia. No, fermo lì. Li dammi qua. Allora, ripeto, non so perché sto dicendo aia, non aia o robe del genere, però mi sento, mi sento così oggi. Ok? Oggi, oggi va così. Allora, forza ste robe che tanto metto non ci servono. Riprendi lo shulker box. Questo mettiamo uno lì, uno lì e vediamo come la situa. Guardiamola da in alto alla pagoda. Se non è, potrebbe essere già un buon mood. Allora, un po' meglio. Però il fatto che lì è proprio piatto, sai che no, non ci sta. Potremmo lasciare, magari mettiamo, magari quattro sono troppe. Ecco cos'è, magari quattro sono troppe. Allora, proviamo ad atterrare qua sopra con molta precisione. Prontavole, no, ok, non pensavo, questo è più fattibile. Allora, riprendiamo questi. Compiamo tutto. Tutto, tutto. Riusciamo dal calderone. L'avevo messi quattro, mettiamone uno, due. Mettiamone due. E voi direte, sono solo due? Eh sì, ne mettiamo solo due. Sono solo due, così tutta l'altezza diventa di quattro. Ma credo che possa, eh sì, dai, già un po' meglio. Già un po' meglio. Sembra meno, non lo so, meno telefonata come roba. Forse tre. Non lo so, così sembra che ci sia un qualcosa sopra. Ci dobbiamo ragionare. Per il momento la lasciamo così e poi ci ci ragioneremo. non metto in dubbio il poterla anche rimuovere perché magari non ci sta bene. Allora, sta diventando notte ma questa cosa non ci preoccupa. Facciamo un piccolo pit stop nella Valle Incantata e lasciamo tutte le cose nelle ceste. Ora, non è che svuoto il shulker box perché non ci interessa farlo ora ma le cose che ci avanzano tipo gli slab li leviamo. Prendiamo i nostri cherry sapling prendiamo anche i nostri bon meal non so quanti ne abbiamo ma credo che due stack cioè spero che due stack ci possano bastare. Poso anche i scaffolding e per ultimo gli essential queste cose si dovrei ruotarli tutti ma per il momento li lasciamo qui e niente guarda faccio anche un po' di scorpacciata di razzi e prendo un po' urca ma sto finendo le mie carotone e questo è un problema devo andare a raccogliere un po' di oro ora un po' di oro qui ce l'ho però insomma potrebbe andare anche un po' meglio poteva andare anche un po' meglio facciamo un po' di carotine per favore quante ne fai? 33 vabbè meglio di un calcio nel culo eh sì le teniamo qua sì devo fare una una bella scorpacciata di carote d'oro e come si fa? ho bisogno di tantissimo oro ora sta alimentando notte ma io ti dirò possiamo dormire sempre nella nella Sakura Valley e poi eh e poi ragionare ah tra l'altro perdonatemi eh ma io non l'avevo già messa qui una campana no eh sono stato un evento recentemente a Roma e un ragazzo mi ha detto ma su qui dovesti mettere una campana lo sai però che la luce della della lanterna mi piace o la metto tipo su un blocco la metto su un blocco qua sopra è perché ora me l'ha detto e voglio mettere una campana là sopra che giustamente è una torre non è la torre dell'orologio quella la faremo e la torre dell'orologio ha senso che abbia una campana non solo ha senso che periodicamente suoni la campana sì avrebbe molto senso allora prendiamo questa io posso piazzarla anche esatto così e allora la piazziamo allora non so se sopra prendiamo tipo magari un blocco tipo polish deep slate no qualcosa di più istituzionale tipo un cisellato ok allora ce lo piazziamo là sopra ora è pura notte però puro bogotà no pura notte pura notte allora prima attirare nuovamente qui sopra magari copriamo la crafting table nel senso non è che lo usiamo questa molto fai così mettiamo una campana così abbiamo la campana ma abbiamo anche la lanterna ora andiamo a dormire prima che succedano casini perché non si sa mai che possono sempre succedere casini siamo comunque nel mondo di minecraft ieri ero a Roma c'erano 18 gradi oggi Milano 0 c'erano 18 gradi in più a Roma vabbè lasciamo stare allora eccoci qua siamo noi viva viva noi allora piazziamo i nostri bellissimi e simpaticissimi bellissimo questo sentiero ma dobbiamo piazzare i cherry sapling dove mancano allora 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 io vorrei riempirlo bene bene ma onestamente non so cosa vuol dire riempirlo bene bene sicuramente dove vedo dei vuoti andiamo a piazzare dei cherry sapling ma non so se è sufficiente per creare l'effetto che stiamo cercando proprio di una no di una bella oh mortacci tua e di chi ti ha creato mi hai fatto cagare addosso e mi hai quasi ucciso facci tua cos'è la sopra un'ape eh vabbè dai almeno l'ape non c'è ma che cosa perché da dove è uscito fuori ma qua non è illuminato tutto no vabbè che ti devo di eh sei un po' figlio di puttana ecco cosa ti posso dire ho della terra qui da qualche parte non sa di no non ce n'è di terra questo è un problema andiamo a prendere un po' di terra eh perché qua devo rifare tutto devo ricostruire il terreno ma guarda qua ci mettiamo delle torce e lasciamo il buco forse non dovevo dirvelo che occhio non vede quale non vuole oh si andiamo a prendere un po' di terra che mi giada fastidissimo allora allora che ti sei grullo vieni qua dammi un po' di terra per favore grazie non so perché sto parlando così anche che sto da Roma non sto da Toscana però vabbè dove stesso madonna che odio i creeper che odio che odio vabbè fortunatamente qua siamo pieni di erbetta quindi ci vorrà poco a trasformare di nuovo tutto in una zona normale anzi guarda mettiamo anche un po' di bombi al qui e qui facciamo crescere questo e facciamo crescere un altro poi chiaramente bisognerà fare anche tutta l'illuminazione più aggressiva del mondo bisogna stare molto attenti con questi cherry sapling perché mi avete già detto più persone che insomma il rischio che esca fuori qualcosa di non consono a youtube quando fai crescere i cherry sapling eh c'è bisogna dircelo il rischio c'è e non so se è molto valido per noi come rischio nel senso non so se vale la pena rischiare così per dei cherry sapling aspetta leviamoci le torce da qua che se no continua a piazzare al random allora qui posso me lo fai piazzare? no qui non me lo fa piazzare ha bisogno di più spazio mettiamolo qua ciao dai bel cherry sapling mettiamolo anche di qua ora io prima metto i cherry sapling poi andiamo a vedere dove mancano dove potremmo aggiungerne dove bisogna rendere più folto meno folto dove possiamo fare la stradina l'importante è aver finito le costruzioni ne mancava una di costruzione importante bisogna dircelo questo tempio che culo abbiamo una nuova petta ci mancava una costruzione importante ci mancava ora cioè guarda che che bella è questa questa schermata per favore guarda mettiamo già le shaders please posso? ho il naso un po' chiuso quando respiro mi soffia il naso cioè proprio a modo di flauto allora così magari un po' too much però non è male dai non è male vero signor villager ecco il fatto che tu sia vicino del fuoco molto pericolosa questa cosa correggiamola al volo per favore correggiamo il volo il fuoco fa auto fa auto il fuoco stronzo che potrebbe rovinarci la giornata perché basta una scintilla guarda che basta una scintilla guarda so che c'è gli scaffolding ma per il momento usiamo un po' di terra leviamo da qui un po' di queste foglie non vogliamo che siano troppo vicine per favore ok così dovremmo essere a posto io spero perché altrimenti abbiamo un problema finire la sakura valley per poi vedersela distruggere da una costruzione della sakura valley insomma c'è di meglio c'è anche di peggio ma c'è di meglio vediamo se cresce questo fantastico anche madonna qui è ancora più vicino fermo un po' per favore fermo un po' distruggi tutto ecco vedi che sta già prendendo fuoco maledetti via distruggi distruggi non vogliamo troppe cose qui vicino ok via 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 ok vogliamo solo che si veda un po' di verde dall'alto non è che per forza dobbiamo essere troppo vicino a questo villager infuocato ok dovremmo essere a posto dovremmo con la D maiuscola parola chiave molto chiave chiave di volta ok ok allora qui che me lo ha tutto il bambù direi lasciamo stare ne piazziamo un pochino qui vediamo se me lo fa crescere ok non me lo fa crescere lì vicino vediamo qui ok questo cresce sì fantastico allora mi ero dimenticato che comunque crescono anche molto vicini tra di loro che è una cosa molto positiva per il sicuramente per il mood rosio no non volevo lanciare un razzo dove cazzo è finito c'era tanto vento evidentemente allora di qui sicuramente dovremmo riempire di torce di lanterne lanterne qui riusciamo a metterne uno bellissimo mettiamo un altro tipo qua accanto al nostro mini tory asiatico che vorrei dire giapponese ma mi sembra più cinese questi colori e ho finito il bon meal eh no ma mi manca ancora una bella zona da riempire bro allora io direi piazziamone un po' a caso vediamo quanti ne crescono e quanti no questo cresce non cresce questo questo sicuramente è troppo vicino alla zona questo crescerà sicuramente mettiamo uno qui mettiamo uno qua uno qui ora tanti cresceranno da soli ne sono abbastanza sicuro ma dobbiamo creare un po' di polta chioma rosea per questa Sakura Valley se no perché cazzo l'abbiamo chiamata Sakura Valley non ne ho idea mettiamo un altro di qua devo andare a recuperare un po' di bon meal mi sembra assolutamente la cosa giusta da fare però sai finché posso piazzare alberelli piazziamoli qui dove vorrei mettere un piccolo bivi una piazzetta ma all'inizio direi cioè all'inizio ora che ho finito tutti i blocchi tra l'altro questi sono troppi vicini troppo vicini tra di loro mettiamolo tipo magari qui qua comunque ci sarà un buco questo magari lo prendiamo lo spostiamo più di qua ok allora sono sicuro che molti di questi comunque cresceranno andiamo in cima a Thorin e Gimli e vediamo come la sita oh guarda un po' di verde ma l'altro no c'è una parte dell'ascia che non vuole non vuole ossidare allora così è già molto più verde perché abbiamo riempito quella zona lì una volta che riempiremo anche quella se ne va ancora molto più verde non è parte che non è verde ma è rosa allora per vedere bene questa roba devo salire in cima alla spirale in mezzo alle nuvole devo andare va bene lo stesso va bene lo stesso la terriamo qui molto precisamente allora eh sì manca sicuramente quella zona lì ma è anche lì sopra dove c'è vuoi via nuvola per favore no non vuoi andare via vabbè quando dici hai la testa tra le nuvole ecco siamo noi siamo noi con la testa tra le nuvole perfetto bellissimo ce la fai? non ce la fa mica dai che finisce qua dai che finisce qua dai che finisce no dai ma che cazzo ma sono infinite queste cazzo di nuvole scendo qui ok molto meglio è proprio il limite delle nuvole vabbè comunque sì devo prendere un po' di bombial e poi lavorare tantissimo uno sull'illuminazione perché l'illuminazione sarà molto importante per evitare spawn indesiderati soprattutto di creeper come abbiamo visto per noi sono un problema i creeper e poi fare un sentierino se non me dobbiamo mettere un bel sentierino ma direi che più o meno ci siamo devo sicuramente recuperare un po' di bombial potrei andare a farlo nella valle del nether cioè dove c'è la bedrock per capirci ma credo che vorrò sfruttare il bellissimo vetro che abbiamo creato con l'ametista e quindi vado un po' a stare a FK anche se ci metto più tempo chiaramente ma è questione di attimi signori non so cosa sto dicendo devo soffermi il naso assolutamente allora andiamo a raccogliere un po' di broschi da dalla farm di scheletri che abbiamo di qua al ma ti dirò di più ma ti dirò di più guarda ci andiamo con il minecart perché ora che abbiamo l'elitra non usiamo praticamente più ma noi abbiamo creato una bellissima struttura che ci porta direttamente lì e allora io dico usiamola signori miei siamo qui perché non usarla quindi sfruttiamo la farm che abbiamo vicino alla base non andiamo nel nether ok ci mettiamo la data del tempo nel nether forse anche un terzo ma non è quello il problema signori questione di iniziare a enjoy enjoy the world ok ce lo godiamo il nostro mondo l'abbiamo costruito siamo abbiamo raggiunto il livello più alto se vuoi per creare queste cose sì sì possiamo dirlo che abbiamo raggiunto il livello più alto ma ce ne sbattiamo un po' il cazzo sì sbattiamo anche un po' il cazzo no è realtà che voglio sfruttare per riparare anche le robe che ho e voi direte vabbè ma potevi ripararle chiaramente nel nether ci mettevi un nanosecondo per favore non non iniziamo ok se no mi mando a cena no a letto senza cena avrei potuto creare altro legno altro vetro figo così deve magari qua tutta una vetrata per vedere meglio avrei potuto come si fa sta roba il glass no il glass questo qui urca 4 shard che è costoso molto costoso però ne potrei fare altri altri 4 di quelli ora non non badate a quello che sto facendo lo so che ho appena preso il minecart per venire qua ma userò i firework e l'elitra per tornare indietro e creare 4 nuovi pezzi di glass perché voglio piazzarli lì mentre aspetto e farmo lo so sono strano non dite uno per favore lo so che siamo tutti strani no? se no non saremo qui a guardare minecraft ita giusto? perfetto e allora una volta ma che bello che da qua si vede la spada ma bellissimo assolutamente bellissimo dobbiamo illuminare anche il nostro il nostro tempio rosa allora andiamo a dormire prendiamo 8 pezzi di ametista facciamo 4 pezzi di questo glass un po' più fortificato che poi non è fortificato semplicemente è opaco dormi per favore grazie dov'è 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 allora 1 2 3 4 1 2 3 4 grazie ce l'ho del vetro già pronto perfetto 1 2 no che almeno ho capito facciamo le cose facciamo per bene fai così fai così perfetto perfetto ci infiliamo nella fessura adesso lascia il set ma che atterraggio incredibile ho appena fatto ma guarda mi faccio complimenti da solo bravo grazie 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 allora mettiamo questo tinted glass che in effetti è molto costoso ma potremmo fare delle cose fighe con questo tinted glass bisogna essere onesti 1 2 3 4 stiamo attenti che ora mi sparano i maledetti 1 2 3 4 perfetto allora sì è un po' si true ma non moltissimo però noi ci va bene lo stesso perché mo' i broschi crescono nascono crescono e poi io li ammazzo che è esattamente il motivo per cui siamo qua giusto? ora sì effettivamente nel nether ci metteremo probabilmente un quarto del tempo anche le quali che ne nascono 1 2 ne sono nati 3 e uno c'è pure una super armatura perfetto non vuole neanche scendere guarda lo che si blocca maledetto perché non vuole scendere? ah ok dai spingetevi a vicenda salite per favore grazie ok starò un po' di tempo FK qui per recuperare un po' di ossa ma che ma aspetta magari ce ne ho già qui un po' di ossa no come non detto un po' di ossa ma anche un po' di esperienza recupero un po' di robe la mia elytra l'armatura e il piccone perfetto guarda tutti con l'armatura mi sponano maledetti comunque per questo video è tutto mi fa piacere aver iniziato la diciamo fase conclusiva della Sakura Valley se noi ci siamo ragazzi mancano pochi episodi un po' come per la Winter Wonder abbiamo fatto delle piccole cose ci potrebbe stare cercare anche degli animali da inserire nella Sakura Valley come animali della Sakura Valley non so magari delle pecore delle pecore rosa make sense makes a lot of sense va bene comunque per il momento è tutto vi ringrazio tantissimo per la visione ci vediamo domani alle 7 con la prossima puntata di Minecraft Ita ciao a tutti ciao a tutti